Ciao ragazzi, un saluto da Isma Goife e PJs. Oggi siamo qua per presentarvi la nostra personalissima top 5 delle carte del Mystical Archives che passeranno in Mystoric, più, come potete vedere, dei bonus e le grandi escluse, perché comunque le carte sono 63 e quindi purtroppo non possiamo parlare di tutte. Partiamo subito con la quinta. Allora, al quinto posto troviamo Premal Command. Si tratta di una Sorcery a costo 5, 3 in colori e 2 verdi, che ci permette di scegliere 2 tra le seguenti 4 abilità. Un giocatore guadagna 7 vite, oppure mettiamo un permanente non creatura in cima al Grimorio del proprietario, oppure rimescoliamo il cimitero di un giocatore nel Grimorio, oppure cerchiamo una creatura e la prendiamo in mano. Dici cosa ne pensi? Questa è molto forte per il semplice fatto che i Midrange a base verde ci sono già nel formato, come Bant Midrange e Abzan Midrange, anche all'ultimo campionato. E questo offre molta versatilità, anche perché appunto sono mazzi che cercano il cinghiale per bloccare i mazzi di sacrificio, o hanno bisogno di vite per stabilizzare contro gli aggro, o togliere permanenti fastidiosi come Teferi o altre carte. Infatti possiamo parlare in maniera più accurata delle sue interazioni. Allora, due abilità vanno in sinergia, che sono quelle che mettono il permanente non creatura in cima al Grimorio del proprietario e quella che permette di rimescolare il cimitero nel memorio, facendo sì che questa carta diventa una removal per qualsiasi permanente non creatura, che sono quelli un po' più fastidiosi di solito e che i mazzi fanno fatica a gestire. Tra l'altro l'abilità di rimescolare un cimitero può sembrare marginale nel formato, ma in realtà non lo è, perché dovrebbe entrare a breve, e lo vedremo in seguito, un mazzo molto forte che è i finici, il blu-rosso finici. Rimescolare tutto il cimitero di quel mazzo è veramente, veramente forte. Potremmo togliere due, tre, quattro finici dalla cimitero. Poi già adesso molti mazzi usano il cimitero perché molti usano l'urrus o sono appunto come Junt Food col gattino. L'urrus è molto abusato. Esatto. Passiamo alla quarta, no? Passiamo alla quarta, in cui troviamo Manatite, che è un instant, ha cosso un bianco, e ci permette di counterare una qualsiasi magia a meno che il suo controllore non spenda un mana. Cosa pensi? Questa qua mi sembra molto forte, anche se non può non sembrare, però per provarlo bisogna giocare principalmente Commander, perché è una carta simile a culo della forza, che è uguale ma blu, si gioca spesso lì, e davvero rende giocare contro i mazzi che ce l'hanno un incubo, perché non si può più fare nessuna magia tranquilli, andando tap out e spendendo proprio tutto il proprio mana. Adesso non si potrà più giocare tranquilli contro gran parte dei mazzi col bianco, perché potrebbero sempre avere questa carta che ci distrugge tutti i nostri piani. Allora, una delle carte che si giocano in questo formato è il Sultai Ultimatum, contro cui questa carta è fortissima, perché permette di counterare un drop a 7 pagando un mana. Esatto. Per me è giocabile principalmente in bianco, blu, verde e angeli, che è una lista stradivertente e tra l'altro anche abbastanza forte, ed è la chiusura perfetta della curva di quel mazzo là, perché ha tantissimi drop a 3, quindi rischia di fare di terzo un drop a 3, ma di quarto fare sempre solo un drop a 3, se non ha la company. Invece avendo il mana tight è molto forte. In una strategia a tempo è una veramente delle carte, secondo me e secondo Isma, che impattano di più nel formato. Può sembrare strano, ma mi assicuro che provatela, perché ne resterete molto contenti. Non me ne pentirete. Allora, passiamo alla terza in classifica, in cui troviamo un grande classico dei giocatori di modder. Spirale fulminante. Un bianco, un rosso, instant, ci permette di fare 3 danni a un qualsiasi target e di guadagnare 3 vite. Questa carta è molto forte ed è sempre stata usata da quando è stata stampata da Ravnica. Allora, è utile per i mazzi aggressivi, perché è un botto manoeficiente. È forte per i mazzi controllo, perché appunto è un botto sempre manoeficiente, ma che consente anche di guadagnare punti di vita. Quindi ci dà tempo contro i mazzi aggressivi. Quindi davvero è molto, molto, molto versatile. E probabilmente potrebbe dare una spinta al formato giocare come controllo G-Sky, che in questo momento non è molto presente. Anche perché non è mai morta, può colpire i place walker, può colpire le creature, può colpire il giocatore avversario e vincere la partita. Sì, 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 è una carta molto forte. Anche questa si può giocare sia in mazzi aggressivi, sia in una dinamica a tempo, perché è molto forte. Anche con i volanti, in un G-Sky. In modder si è giocata in G-Sky, anche in G-Sky combo, con Kikikiki, Restoration. Per avere un piano B, però con la Vindillion. Quindi è una carta che in Historic potrebbe impattare parecchio. Se guardiamo lo storico della carta, impatterà. È quasi sicuro. Perché è una carta comunque abbastanza basica come effetti, però è molto forte, un po' un level alto. Allora, passiamo alla seconda in classifica, quale cose si fanno hot, in cui troviamo Inquisition of Kozilek. Una Sorcery ha costo un nero, anche questa è una Staples del Modern, che ci permette di guardare la mano del nostro avversario e di scartare, mandando al cimitero, una carta che costa, con costo di mano convertito, tre o meno. Questa è la mia carta preferita in Modern. Penso che da quando l'ho comprata non ho mai smesso di giocarla. È davvero fortissima, soprattutto accompagnata con Topseeds, Rumapensieri, la sua sorella. Questa è davvero una carta che dà molta spinta ai vari mazzi che si basano sugli scartini in Historic, per esempio Rakdos Arcanist. Adesso può giocare da sei o anche otto, volendo, scartini main deck molto forti, che possono togliere praticamente tutto e rifarli con l'Arcanista a turno tre. È davvero molto, molto maleficiente. E poi, a differenza di Rumapensieri, è anche forte contro i mazzi aggressivi, perché non perde punti di vita a differenza dell'altra. Quindi, davvero, non so cosa dico questa carta se non cose belle. Non posso aggiungere nient'altro. No words. No, staples. Staples, esatto. L'unica parola è staples. Inquisition of Staples. Inquisition of Staples. Devo cambiare il nome, infatti. E ora passiamo... Passiamo al primo posto in cui troviamo Fate e Le Salute. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? A parte il disegno che è eccezionale. Ti piace? Mi piace. Stile un po' particolare. Anche il Kozilek è molto bello. Ovviamente è sempre soggettivo, io lo dico sempre. I gusti sono... Non c'è una carta brutta o una carta bella. C'è quella che piace a me e quella che può piacere a te. Esatto, esatto. Passiamo al lato tecnico della carta. La carta è una vera, vera bomba. Perché a costo di un mana rosso, a velocità sorcery, ci permette di pescare due carte e scattare due carte. Ah, anche l'abilità flashback, che è una delle abilità, possiamo dirlo, una delle abilità più forti di me. Ci permette di riciocare la carta dal cimitero pagando tre mana. E dove la troveremo? Un po' di mazzi. Beh, la troveremo sicuramente in Fenici perché gli dà una spinta incredibile, quindi probabilmente Fenici verrà giocato. Già adesso è borderline, non è tier 1, ma è lì che rischia. Con questo è una spinta incredibile. E poi la troviamo anche di nuovo in Rakdos Arcanist perché permette sostanzialmente di selezionare le carte e poi soprattutto è... Uno permette di togliere gli scartini quando ormai non servono più, perché come abbiamo già detto ne giocheremo tanti, Inquisition e Ruba Pensieri. E quindi dopo un po' quando l'avversario ha un top deck e non ci servono più, gli possono tranquillamente scartare e riciclarli. E poi punto due è una spell che costa poco, quindi ci permette di fare le pedine facilmente col piromante. Oltre a me, la selezione delle carte per cercare la risposta giusta al momento giusto, perché siamo un masso comunque che cerca di accompagnare la risposta giusta alla minaccia dell'avversario e non sempre ce l'abbiamo, questo ci permette di cercarla. Ha la carta molto versatile che ci permette di migliorare anche i matchup post side, perché ci permette di cercare la side, quindi ci permette... e tra l'altro ci permette di tenere mani veramente veramente al limite, tipo mani a una terra, on the draw, con questa carta qua in mano le puoi tenere tranquilla. Esatto, esatto. Che invece non puoi farlo. E i jack, o not, o gli altri peschini del formato, sarebbero mani molto a rischio. Invece questa è una carta veramente forte che ti permette di pescare due e scartare due. Potrebbero uscire anche altri mazzi dei combo e via dicendo, però sicuramente verrà giocata. Noi siamo abbastanza certi. Io sono abbastanza certo. Questa è la migliore, è la migliore. Passiamo ai bonus. Passiamo ai bonus. Allora, come bonus, come primo bonus abbiamo deciso di mettere una carta mai stampata in mezzo, che è Abundant Harvest. Al costo di un verde, ci permette di scegliere, a velocità sorcery, ci permette di scegliere o terra o non terra. Rivelare dalla cima del mazzo finché non troviamo una carta che ha quel tipo di carta, quindi terra o non terra in base a quello che sceglieremo, e di prenderla in mano. Le altre le mescoliamo in fondo in ordine randomico. Che ne pensi? L'abbiamo messa come bonus perché è complicata da valutare. Sarebbe un once upon a time in versione corretta, in versione fair, non incredibilmente forte e sbroccata, come si suole dire. E anche tra l'altro è particolare, quindi è un bonus perfetto, perché questa carta è diciamo uno dei primi esempi di pre-stampa, perché uscirà in realtà in modo Horizon 2. Che uscirà maggio, ricordiamo. Quindi è strano che abbiano fatto una cosa del genere. Però come carta di per sé non è affatto male. Comunque non cerca una cosa precisa, a parte le terre, però il resto bene o male ti consente bene o male di scegliere quello che vuoi. Allora, carta versatile potrebbe entrare in diversi archetipi. Il problema l'abbiamo messa tra i bonus e non nella classifica delle prime 5 perché appunto è un'incognita. Essendo una carta nuova, con un tipo di effetto un po' particolare, potrebbe essere molto forte come potrebbe essere media e quindi non entrare in così tanti archetipi. Esatto. Valutare le carte prima è sempre un po' il rischio. Sì, è sempre un po' il rischio. Su carte che non hanno uno storico è veramente difficile. Noi ci sentiamo comunque di metterla tra quelle con un potenziale. Sì. Passiamo alla seconda bonus, in cui troviamo Chaos Warp. Ecco, questa invece è una ristampa. Sì. È una ristampa. Allora, al costo di due in colori e un rosso, a velocità instant, ci permette di rimescolare un permanente, qualsiasi ragazzi, Terra, Blaze Walk, l'incanto, qualsiasi, tutto. Rimescolare nel crimine del proprietario. Il proprietario rivela la prima carta se è un permanente, quindi se non è un instant o una sorcery, la puoi giocare. Mettela in campo. Mettela in campo. Mettela in campo, sì. Mettela in campo, senza pagare niente. Sì, sì, così. Questa è molto particolare per un ragazzo, secondo me è davvero molto forte. Allora, è un po' complicato, bisogna fare un po' un ragionamento. Allora, quando voi tirate una rimozione su qualcosa, tendenzialmente questo qualcosa vi dà molto fastidio e tendenzialmente, beh, vi fa perdere, no? Allora, se voi togliete dalle scatole, non so, teferi o qualcosa con questa carta, mal che vada, l'altro vi mette una minaccia equamente potente. Però, sulla cima del Grimorio, spesso, visto che i mazzi hanno questa composizione, almeno il 30% di terre, è facile che ci sia una terra. E quindi l'altro cambierebbe la sua carta migliore con una terra. E invece, se c'è un instant o una sorcery, non ottiene niente. Cioè, l'avete tolta e basta. Quindi, sostanzialmente, lui, a instant togliete qualsiasi cosa e l'altro magari ha anche la possibilità di ritrovarsi con nulla. Giusto. Allora, la carta è versatile. Un altro uso di questa carta potrebbe essere utilizzarla sulla remuva, l'avversario, su un vostro permanente. Quindi, per... Hai se mi stai venendo in mente? Un mazzo come Big Red, che si può montare, sicuramente, si può montare. Sì, sì. Potrebbe avere un beneficio da questa carta qua, perché sulla remuva, l'avversaria, per esempio, un controllo, non ha permanenti, no? Non ha permanenti importanti. Ti fa una remuva sul tuo permanente importante, tu puoi giocarla, lo rimescoli e poi giriamo. E poi speri. E speri. E la carta, allora, non riusciamo a dirvi in quale mazzolo la vedremo, Big Red è uno dei possibili. però è una carta un po' versatile. Tra l'altro si presta anche a qualche combo, però... È difficile, è difficile. È molto randomica. È molto randomica. Per questo è bonus e non è nella classifica. È una carta molto particolare. In commander, strabusata, tra l'altro, si gioca tanto. E l'ultima bonus, beh, questa non si può non mettere. Allora, al costo di sei mana, quattro incolori e due blu. Instant. Sorcery, scusate. Mischi il tuo primorio. Riveli la prima e la puoi giocare senza pagare il possibile. Cioè, signori e signori, questa è Mind Desire. Mind Desire. Ovviamente non abbiamo detto la parte più forte. Storm. Una delle abilità, forse l'abilità più bella di Magic. Eh, dipende dalle persone. Alcuni non piace, a me piace. Però è bella. Poi la carta è veramente iconica. Allora, parliamo di una carta stampata in assalto, se non sbaglio. Sì, è abbastanza vecchiotta, se non anche di più. Non è assalto. Se ne siamo mai assalto, io dico assalto. Controlleremo. Allora, la carta, in un formato normale, sarebbe molto forte. Infatti non è legale in modder, è bannata in legacy. Eh, mi pare di sì. Non mi ricordo. Devo controllare. Devo controllare. Purtroppo non gioco molto legacy. No, non giochiamo molto legacy. Però la carta ha molto potenziale. Allora, il problema di questo formato qua è che non ci sono riti. Carte che ti danno, a posto 2 mana ti danno 3 mana. A posto 3 mana te ne danno 4. Quindi è un po' difficile giocare questa carta qua. In maniera efficiente. Efficiente. Però, noi abbiamo pensato a un blu-rosso, contro, con un placewalker di Dominaria, che si chiama... Jaya Vallard. Jaya Vallard, che ti dà 3 mana, facendo più, ti dà 3 mana rossi per castare le istante sorsi. Vorrebbe dire, costa 5 quel placewalker, quindi vorrebbe dire avere 8-9 mana a disposizione. Quindi riuscire a fare 2-3 spell e poi riprendere veramente un vantaggio grosso. Esatto. Altra cosa, se giri una terra e non hai cassato la terra, la puoi giocare. Esatto. Quindi dice play e non cast. Esatto, dice play. Quindi si possono giocare le terre dalla cima. Ovviamente rispettando il limite di terre per turno. E la cosa più che altro che la rende, diciamo, decente rispetto alle altre spell con Storm, che hanno spoilerato dal Mystical Archive, è che le altre richiedono 10 spell per essere efficaci. Mentre questa, anche con 3-4 copie, riuscire magari a colpire un altro Mind Desire, farà sì che si mette in piedi un altro Mind Desire, che però sarà a questo punto da 5-6, non 8. E quindi uno chiama l'altro, magari. Quindi magari adesso qualche pazzo riuscirà a creare qualche lista che riesce a concatenare i vari Mind Desire partendo da uno. Però comunque anche solo perché è una carta molto iconica, l'abbiamo messo come bonus. Carta con potenziale, ma non sicura. L'idea delle carte bonus è questa. Sì, certo. Carte con potenziale, ma non sicura di avere giocabilità in questo momento. Passiamo alle grandi escluse. Allora, le grandi escluse sono, vabbè, la prima... La prima, ragazzi. La carta preferita di Isma. Beh, effettivamente sì, questo set mi piace tanto. Allora, Memory Lux. Al costo di due mana, un incolore e un blu. Instant neutralizza una magia. Dopo che l'hai neutralizzata, invece di metterla nel cimitero, la metti in cima al Grimorio. È molto forte perché, beh, l'avrete sicuramente provato se avete giocato Magic negli ultimi uno o due anni. Avrete sicuramente avuto le vostre magie vere di Orosse che si beccavano in testa Ethergust, quindi ve la metteva in cima. o, in fondo, a scelta vostra. Questa va su tutte le magie. La grossa differenza è che, però, uno, non ci sono molti mazzi tempo, quindi, per farvi capire, un mazzo come quelli basati sui Delver, o Secrets, in Historic. quindi non c'è una casa vera e propria per questo counter, per questa carta. I controlli hanno già sensor, come counter a due, che è molto forte, molto, si gioca in quattro copie, e questa carta rimanda il problema mettendolo in cima al Grimorio dell'avversario. E poi, beh, sostanzialmente, anche il fatto che, appunto, rimandando il problema non si riesce del tutto a risolverlo e spesso si vuole eliminarlo del tutto. Questa qua colpisce magari la nissa dell'avversario o comunque la sua spell importante e il turno dopo torna e siamo appunto a capo. Allora, il grosso problema è questo, quello che diceva Isma, che i controlli vogliono risolvere i problemi e non rimandarli. I mazzi che vogliono rimandare i problemi sono i mazzi tempo, che mettono una pressione all'avversario. Quindi potrebbe essere un UV Flyer, potrebbe essere un combo, potrebbe essere un midrange con le Swalker. Il problema è che questi mazzi, questi archetipi, non sono tanto presenti in questo momento in Historic. Esatto. Per cui, per adesso, ci sentiamo di escludere, perché in questo momento non impatterà così tanto il formato. Esatto. Passiamo alla seconda grande esclusa, in cui troviamo Time Warp. Carta incredibile. Al posto 3, in colori, e 2 blu, Sorcery, un giocatore bersaglio, acquisisce un turno extra. Ok, carta semplice. Semplice, molto semplice. Beh, le case di questa carta potrebbero essere i vari mazzi ramp a base verde e blu, quindi anche sul TAI ultimatum. Però, a parte questi mazzi qua, non vedo molte altre possibilità per lei. Poi magari, un punto, tira fuori dal cappello un mazzo incredibile che fa 10 turni di fila e devo ricredermi, per carità, non sto escludendo che sia forte. Anzi. C'è da dire, come vantaggio, rispetto ai, alle carte, ai vari, carte che danno turno addizionali dell'ultimo periodo, questa non si autoesilia o non sparisce da qualche parte come Nexus of Fate. E quindi, questo, già, è un piccolo bonus. Ah, stesso problema di Memory Lux. Questa è una carta forte se tu hai dei permanenti che o attaccano o place walker che hanno abilità o incantesimi che hanno abilità ogni turno. Il problema è che trovare, sarebbe stata molto forte con Fights of Invention. Sì. Sarebbe stata veramente OP. Perché tu avresti potuto fare Fights of Invention più Time Warp e il turno dopo due place walker o due creature rapide come Cavalieri di M20 o altri place walker ce ne sono mille. Per fortuna è bannato. È bannato. È bannato. Cioè, l'anno... L'anno visto che era un po' problematica. Quindi, grandi scuse. Non ci sentiamo di mettere nella top 5. Bella carta, per carità di Dio. Passiamo all'ultima grande scusa e qua è veramente... Ancora ci sarà tanto da discutere. Anche lei molto iconica. Saremmo tanti tanto criticati probabilmente. Allora, parliamo di Tempesta Celebrale in inglese Brains. Al posto di un Blue Instant potremmo pescare tre carte a unirle alla nostra mano e mettere due carte dalla nostra mano in cima del primario dell'ordine che preferiamo. Orte che vogliamo, sì. Il problema è che nei formati in cui è davvero forte Brainstorm ci sono dei modi per rimescolare il mazzo praticamente a gratis. Le fetchland o anche altri effetti però principalmente le fetchland. l'historique purtroppo queste carte non le ha. Ha solo Fable Passage che è una fetch per carità, sì ma non è molto efficiente. E quindi sostanzialmente spesso ci ritroveremo con Brainstorm che ci mette in cima due carte che conosciamo già. Se noi mettiamo una carta dalla mano nella cima è perché non la vogliamo più sostanzialmente e quindi non dobbiamo neanche ripescarla. E quindi questo depotenza tanto la carta. l'unica combo che avrebbe utile in questo momento è il fatto che può nascondere le carte dagli scartini però insomma mi sembra un po' tirata per i capelli. Sì allora c'è un'altra carta che può aiutare Brainstorm che è il Field of Ruin che si può giocare se il meta non è tanto aggressivo. Qualche controllo due colori potrebbe anche provarla a giocare giocando 4 Fable Passage e forse 3 o 4 Field of Ruin. La carta in sé è fortissima ovviamente come diceva Isma il contesto non l'aiuta tantissimo quindi noi pensiamo che Sara potrebbe essere giocata potrebbe essere giocata ma non dominerà il formato. Allora nelle varie classifiche che abbiamo visto Brainstorm è stata messa più in alto quindi potremmo sbagliarci però sinceramente ci sentiamo eravamo concordi entrambi su questa visione. Questo non vuol dire che Brainstorm non verrà giocato in futuro. No probabilmente in questo momento è così in futuro non si sa. Ma come anche le altre carte che abbiamo escluso Memory Labs o Time Warp non è detto che rimangano così per sempre. No comunque era la classifica delle prime cinque. Esatto. Allora ragazzi vi ringraziamo tantissimo iscrivetevi al canale riempite di mi piace condividete i vostri amici criticate tanto siamo forti possiamo prendere le critiche visto che non ci segue nessuno per adesso possiamo anche rispondervi. Sì infatti abbiamo di questo tempo vi rispondiamo. Un saluto tutto questo esatto un saluto da Pizzi e da Ismogoff e Pizzi questo lo tagliamo ok Grazie a tutti